Davide Foschi ho chiesto di portare accanto alle opere di Licata, accanto alle opere di Mark Costabi, accanto alle opere di Sazes, Davide Foschi perché in un'opera che ricorda Leonardo unisce l'Occidente di Leonardo con l'Oriente, con i Chakra, con la luminosità. La domanda è se davvero a Leonardo da Vinci non sarebbe piaciuto occuparsi di queste cose, quindi un Davide Foschi che all'interno dei linguaggi non poteva mancare, un linguaggio di Davide Foschi, il linguaggio del metateismo. Il metateismo ha come principio fondamentale, come movimento culturale e artistico, quello della riscoperta del sacro, della riscoperta per andare a ritrovare il sacro delle nostre origini. E quindi nel viaggio che ho fatto all'indietro, fino ai primordi dell'arte, fino ai primi graffiti che l'uomo ha mostrato proprio come capacità artistica, cioè di collegamento al divino, lungo tutta la carrellata del tempo non potevo non passare anche da Leonardo. E quindi molto del lavoro attuale che sto facendo è basato proprio su Leonardo, su come Leonardo potrebbe vedere il mondo oggi. Grazie.